L'Unedi doveva essere la volta della Federazione Azzura di Lecce ma l'incontro slitta. Intanto il coordinatore Vitali non digerisce l'ostruzionismo del presidente dei consiglieri regionali di Forza Italia. Ieri mattina ho inviato al capogruppo Zullo un fax con cui chiedevo la convocazione per lunedì mattina alle 10 di tutti i consiglieri. Non ricevendo risposta ho chiamato alcuni di loro e nessuno aveva avuto alcuna comunicazione. Zullo mi doverà delle spiegazioni per questo comportamento. Così l'onorevole Vitali che aggiunge sto facendo di tutto per rasserenare il clima. Non ho fatto polemiche e ho inviato personalmente a tutti i consiglieri regionali un sms. Ma lunedì il capogruppo dovrà darmi una giustificazione ad ogni buon conto, conclude il coordinatore regionale berlusconiano. Sono lieto di non aver fatto alcun nome dei sabotatori avendo letto i segnali di tregua messi dal fittiano onorevole di Staso. Vedremo. Intanto lunedì doveva anche esserci la visita leccese che invece come già detto slitterà forse anche di una settimana per Vitali, Prioritario, incontrare i forzisti Ghebellone e Perrone, perché riferimenti territoriali e per garbo istituzionale. E poi tutto il partito senza esclusione alcuna. Ma le agende dei due risulterebbero piene malgrado la disponibilità dimostrata. Ma per qualcuno dall'interno del gruppo fittiano potrebbe essere una strategia temporeggiatrice, non avendo ricevuto un consenso dal leader ricostruttore. Per Vitali dopo l'incontro di lunedì con i regionali dovrebbe esserci la visita nella federazione barese, in quella brindisina e logicamente in quella leccese. Il tutto forse prima della chermessa di coalizione del prossimo 8 marzo. Ma non si esclude anche successivamente utilizzando la presentazione di Schittudi come premessa per una riappertura di dialogo.